C'è mancato? No, è mancato che io sull'ultimo strappo ho bucato, andrò davanti con i primi e quindi ho fatto tutto lo strappo con la ruota a terra mi sono staccato perché avevo la ruota a terra e dopo ho cambiato la ruota ma ormai è andata Però voglio un'impugata, non si è già perfetta? Sì, perché in una corsa del genere non si sa mai io ormai l'ho fatta tutti gli anni ed è sempre meglio stare davanti anche perché poi dietro è un po' un casino, qualche traccadute poi oggi c'è anche vento quindi stare davanti è più facile che si arrivi che non si arrivi non è come le corse normali, questa qua è una corsa un po' a parte